Salve, ci troviamo qui oggi per un nuovo video su un aggiornamento alla build di schegge di ghiaccio La build schegge di ghiaccio per chi non lo sa gira intorno alle schegge di ghiaccio Ha il suo incantamento che praticamente ci dice che nel momento in cui schegge di ghiaccio vengono evocate automaticamente Nel momento in cui andiamo a colpire dei mostri che sono già congelati E alla nova, la nova è un'abilità che congela tutti i mostri che abbiamo intorno Nel momento in cui tutti i mostri vengono congelati le schegge di ghiaccio partono in automatico E' un'ottima build ma l'ho dovuta modificare nel tempo perché aumentando di difficoltà sulle spedizioni da incubo Purtroppo il danno che subisce il mago è troppo elevato Non riesce più a rimanere vivo e ho dovuto cambiare dei pezzi nel set perché non riusciva più a sopravvivere Il danno rimaneva buono, anzi probabilmente facciamo meno danno adesso rispetto a come era all'inizio Ma riusciamo a vivere e quindi a giocare fondamentalmente Comunque passiamo all'albero dell'abilità che è la prima cosa da impostare E poi dopo vediamo tutto il resto Allora prima dobbiamo mettere due punti sul dardo infuocato che ci serve per arrivare all'abilità primaria Perché dardo infuocato? Dardo infuocato perché va a scompare con l'incantamento Che ci dice che quando noi infliggiamo danno a un qualunque bersaglio Questo va aggiunti dei danni da fiamme E questo poi scomba con una passiva che abbiamo nell'albero e poi lo vedremo Poi si va a mettere 5 punti su scheggi di ghiaccio Scheggi di ghiaccio ci dice che lanciamo 5 scheggi che infliggono In questo caso da 3.800 a 4.700 danni Ciascuna e infligge il 25% di anni aggiuntiva ai nemici congelati Quindi i nemici congelati fa più danno Poi abbiamo scheggi di ghiaccio una probabilità del 40% di rimbalzare su un altro nemico E rimbalza sempre sui nemici congelati scheggi di ghiaccio E poi qui io ho preferito questa abilità qui Colpire un nemico con 5 scheggi di ghiaccio con un unico lancio Lo rende vulnerabile per 2 secondi Mentre molti utilizzano quest'altra che quando abbiamo una barriera Scheggi di ghiaccio infligge danno come se fossero congelati Quindi si va ad aggiungere quel 25% di anni in più e rimbalza Perché ho utilizzato questo? Perché oggettivamente per Quando picchiamo un elite o pochi mostri È meglio avere questa perché abbiamo più probabilità di renderli vulnerabili E noi faremo molti danni ai nemici vulnerabili È vero che possiamo farlo con altre abilità Ma è meglio fare così Nel momento in cui la provate vi renderete conto che per i mostri singoli È meglio mettere questo potenziamento qui Poi si va a mettere un potenziamento su devastazione Che ci serve più che altro per arrivare a dominio elementale Che ci dice che tutte le abilità primarie infliggono il 9% di danni aggiuntivi Se abbiamo almeno 50 di mana E questo molto probabilmente lo avremo spesso Anche perché aumentiamo un pochettino il mana col tempo Poi dopo vedremo Sulle abilità di difesa sono le più importanti Vanno prese tutte Partiamo dalla prima che è lo scudo di fiamme Scudo di fiamme è il migliore Scudo di fiamme ci rende immuni per 2,4 secondi E inoltre ci dà un 25% di velocità di movimento E lo scudo di fiamme ci cura nel momento in cui lo andiamo a lanciare Lo scudo di fiamme è fortissimo perché oltre che a renderci immune Ci fa diventare inarrestabili e spezza le abilità che ci infliggono Gli stati debilitanti che abbiamo addosso Quindi non so, impaurito, congelato o avvelenato anche per esempio È probabilmente la migliore Un discorso simile per teletrasporto Perché comunque ci fa diventare inarrestabili Inoltre è un teletrasporto Quindi ci dà mobilità Inoltre ci dice che Fa dei danni nel momento in cui lo facciamo sopra a dei bersagli Ci dice che se lo facciamo sopra a 3 bersagli No scusate Si riduce ai 0,5 secondi per ogni nemico Fino a un massimo di 3 secondi Quindi sono fino a 6 bersagli Quindi se noi becchiamo 6 bersagli Il teletrasporto ci va a durare Il tempo di recupero Almeno mio in questo caso Diventano 3 secondi e mezzo E poi quando facciamo un teletrasporto Otteniamo un 30% di tempi di recupero Scusate di danni 30% di danni subiti in meno E che è una cosa molto importante Poi vedremo anche perché Poi Corazza di ghiaccio Non è forte come lo scudo di fiamme Ma dura di più Dura 6 secondi E dà una barriera che Avvolge E ci avvolge E ci dà una barriera Del 39% della mia vita base Che in questo caso è 2870 E Mentre è attiva però Il 5% di danni che noi facciamo Vengono fondamentalmente caricati Sullo scudo di fiamme Poi Scusate Sullo scudo di ghiaccio Io poi ho messo questo Potenziamento qui Che ci dice che quando noi abbiamo Lo scudo di ghiaccio La vorazza di ghiaccio Abbiamo un 25% di mana aumentato Di rigenerazione di mana Poi la nova Io la nova ho messo 3 punti Perché abbassa i tempi di recupero Ci dice che Facciamo una nova Che congela tutti i mostri Che abbiamo intorno Per 3 secondi Poi Uccidere i nemici congelati Con nova Ne riduce il tempo di recupero Di 1 secondo fino a un massimo Di 4 secondi Quindi ipoteticamente Io potrei arrivare A 9 secondi Più o meno Di tempo di recupero E poi Nova Celera Nova Celera rende vulnerabili Per 4 secondi Tutti i nemici E 6 secondi contro i boss Quindi Nel momento in cui Spariamo nova Aumentiamo i danni Perché i mostri Divendono congelati In più I mostri divendono vulnerabili E serviscono un altro 20% di danni aggiuntivi Poi abbiamo le passive Una è questa Qui che si può mettere E non mettere Anche i punti Annova Si possono togliere 2 punti Aumentare i tempi Di recupero Di circa 1 secondo 1 secondo E qualcosa Qui abbiamo Un 5% di probabilità Di colpo fortunato Che una vitale difesa Venga zerata E si può Verificare una volta Ogni 10 secondi E' una buona abilità Che Può essere Ci può tornare utile E poi abbiamo Il cannone di vetro Che comunque Da un 18% Di danni aggiuntivi E un 9% Di danni subiti In meno Poi sulla vitale Evocazioni Qua utilizziamo Solo le passive Abbiamo Il 15% Di probabilità Di colpo fortunato Aumentato Che è molto importante Per questo personale Del colpo fortunato Poi vedremo perché Poi abbiamo Allenamento Degli elementi Che in realtà Non è che sia Un granché Però Per ogni secondo Che non subiamo Danni Contro un'elite Abbiamo Una riduzione Del danno Dell'1% Fino al massimo Del 40% Comunque sono danni in meno Che subiamo Nei confronti Degli elite Ma soprattutto Usare un'abilità Con tempi di recupero Fornisce una barriera Pari al 30% Della tua vita massima Quindi 3000 di vita Quindi significa Che se noi facciamo Teletrasporto Abbiamo Riduzione del danno E barriera Nova Barriera Scomba Scomba Tantissimo Poi Sulla Sulla Di dominio Sempre Solo Passive Si mette un punto A veloci C'è chi non li mette I due punti qui E va a prendere Altre cose Però Io L'ho impostata così La mia build Un punto A veloci Cielo Che aumenta La durata Delle nostre Barriere Del 5% Che non è importante Ma è importante Questo Quando hai una barriera Reattiva Infligge il 16% Aggiuntivo Di raggelamento Quindi Di danni Scusate Si Di danni Di raggelamento Poi Importantissime Invece Le fiamme interiori Non tanto Per la prima Che non serve a niente Ma per la seconda Che vampate I divoranti Che infliggiamo Il 30% Di anni aggiuntivi Contro i nemici In fiamme Danni critici Scusate I nemici Sono tutti in fiamme Grazie All'incantamento Delle frecce infocate Molti utilizzano Palla di fuoco Scusate Meteora Che col potenziamento Immobilizza i mostri Così Il bonus Arriva a 75% Il problema È che Dovremmo togliere Dei punti Per mettere La meteora Che comunque Ci costa 34 di mana E inoltre Immobilizza Per solo i 2 secondi Può essere buono Soprattutto contro Gli elite Perché in quei 2 secondi Facciamo molto danno Poi Nell'abilità Ultra Io utilizzo Il congelamento intenso Che è un safe Ne tanto Ne quanto È buono Soprattutto perché Nel momento in cui Lo facciamo Per 4 secondi Siamo immuni In quei 4 secondi Probabilmente Si ricaricano Le nostre abilità Nel momento in cui Magari siamo Un attimo a corto Di tempi di recupero Perché l'abbiamo Tutte quante In cooldown In cooldown E quindi È un buon safe Mentre le altre 4 Vanno tutte Quante Maxate La vita Da freddo Infliccono Il 15% Aggiuntivi Contro gli elite Il 9% Il 10% Di probabilità Di azzerare Il costo di mano Del prossimo Utilizzo Di schegge Di ghiaccio Infligendo inoltre Il 40% In più Questa probabilità Raddoppia Contro i nemici Vulnerabili Quindi noi Dobbiamo rendere Vulnerabili I nemici Quindi Il 20% Di probabilità È quando Noi Becchiamo Un mostro Abbiamo Il prossimo Le prossime Schegge Graduite E che le schegge Facciano Il 40% Di anni in più Anche questo È molto importante Poi vedremo Anche perché Questo è L'albero Delle abilità Adesso Andiamo a vedere Gli oggetti E Come scombano I nostri oggetti Con quello Che abbiamo visto Finora Allora Intanto Partiamo dal presupposto Che I tre oggetti Unici Che porta il Mago Che potrebbe portare Il mago Che sono torso Bracciali E pantaloni Protezione per gambe Vanno sostituiti Con dei leggendari Con aspetti E non gli unici E poi vediamo Il perché Perché lo sostituiti Partiamo dal Elmetto Io ho un elmetto Allora Intanto Partiamo Dall'infusione Qui ho Nova Celida Ottiene Una carica aggiuntiva Ma il tempo di recupero Aumenta Del In questo caso 30% Il mio è maxato Più è basso E meglio è Quindi che succede È vero che Nova Celida Ha un 30% Di tempo di recupero In più Che è circa Un 3 secondi Però Ne abbiamo Un'aggiuntiva Quindi Qual è il discorso Che quando noi Andiamo in giro Se non avessimo Se non avessimo questa È una carica La spariamo E aspettiamo 9 secondi Se invece abbiamo Due cariche E noi la spariamo La seconda carica Nel frattempo Si riparte No? Quindi magari Abbiamo È un 13 secondi Di recupero Sta a 5 La spariamo Quella successiva Non sta Magari a 9 Ma sta già a 4 secondi Perché nel frattempo Ricarica sempre La seconda La seconda Nova Quindi è comunque Migliore Gli affissi Dell'oggetto Qui è importante Cercare di avere Oggetti Col potere magico Più alto possibile Per aumentare L'armatura Che sarà molto importante Tempi di recupero Tempi di recupero Ridotti Io ho a mana massimo Tutte le caratteristiche E probabilità di colpo Fortunato Quando hai una barriera Quindi 12% Di probabilità di colpo Fortunato aggiuntivo Quando ho una barriera Qui si potrebbe Sostruire tutte le caratteristiche E con qualche altro Affisso Ce ne sono di diversi Che possono essere Utili Tipo Vida massima Per esempio Potrebbe essere molto utile Però Tutte le caratteristiche Diciamo che Alla fine Ci può anche stare Armatura Ho tolto L'armatura unica Che era quella L'armatura È questa qui Che praticamente Ci dice che Dopo aver utilizzato Un teletrasporto I nemici Vengono attirati Verso Il teletrasporto Storditi Quindi intanto Li stordiamo In più Ci ammassa I mostri Il problema Funziona benissimo Il problema Che ha pochissimi Aumenta il danno Ma non ha nulla A livello di protezione Mentre Quella che ho messo Intanto L'infusione Subisce il 25% Di danni In meno Anche qui Maxata Dai nemici Sotto gli effetti Debilitanti O vulnerabili Quindi nemici Che sono Raggelati O congelati Ovviamente Ma anche Vulnerabili Ci infliggono Il 25% Di danni in meno L'armatura Va completamente Sul Riduzione del danno Quindi riduzione del danno Da nemici vicini Riduzione dei danni Da nemici in fiamme Riduzione dei danni Da nemici lontani Armatura totale Si potrebbe sostituire In questo caso Riduzione dei danni Da nemici Lontani Con riduzione del danno Che potrebbe essere meglio Riduzione del danno Arriva fino a un 10% Però anche così È una buona armatura Ovviamente Sui pezzi di armatura Vanno sempre messi i rubini Perché ci aumenta La vita massima Del 4% Per rubino Poi Bracciali Bracciali Il discorso è lo stesso Si potrebbe mettere I cielo ardente I cielo ardente Hanno una probabilità Colpo fortunato Quando facciamo colpo fortunato Abbiamo una probabilità Di congelare i nemici Il problema è che Pure qui Diciamo Come è rollato Questo oggetto È molto Meno conveniente Rispetto che Ha un oggetto Ha un bracciale Che possiamo Diciamo Rollare noi Perché questo qui Dà probabilità di colpo critico Danni da freddo Durata congelamento Colpo fortunato Che ricenera La risorsa principale Probabilità di colpo critico È ottima La probabilità di generare La risorsa È ottima Ma La durata del congelamento Non ci serve E I danni da freddo Sono buoni Ma non così tanti Mentre quelli che abbiamo Che ho montati Intanto Ho L'affisso Che I nemici Subiscono Il 30% I nemici Congelati Mobilizzati O storditi Quindi in questo caso Congelati Subiscono il 33% I danni aggiuntivi In più La probabilità di colpo fortunato Aumenta il 14% 4 gradi a schegge di ghiaccio Comenta di brutto Il danno Probabilità di colpo critico 10% E velocità di attacco 11% Qui si potrebbe togliere Probabilità di colpo critico Per mettere In realtà Questa abilità qui Che è Il 5% di probabilità Di generare La risorsa principale Poi vedremo Io purtroppo Non ho tantissime abilità Che ricenerano La risorsa principale Per questo Ho dovuto fare Delle variazioni A seconda di come Avete la build Dovete cambiare Alcune cose Poi andiamo sui pantaloni I pantaloni pure Ci sono Le braghe Che ci Danno una probabilità Del 20% Che quando un mostro Muore Spari una nova Gelida Il problema è che Pure qui La riduzione del danno Non esiste Mentre qui abbiamo Dei pantaloni Con molta riduzione del danno Quindi In questo caso Riduzione del danno Nei nemici lontani Armatura totale E danni ridotti Overall Ovviamente Ho tutte le caratteristiche Sarebbe stato meglio Se anziché tutte le caratteristiche Avessi riduzione del danno Nei nemici vicini Sarebbe stato perfetto Attualmente non l'ho E lo sto cercando Come infusione Ottiene il 0,5% Di armadura Aggiuntiva per 4 secondi Quando infliggiamo danni Fino a un massimo Del 50% Quindi fondamentalmente Riusciamo ad arrivare Al 50% Di armadura Che ce la porta Su tantissimo Andiamo intorno ai 9000 Eppure qui Sempre rubini Stivali Stivali Allora qui Il discorso è che Sarebbe meglio Sugli stivali Mettere Le illusioni aggiuntive Io adesso purtroppo Non ce l'ho Perché ho questi stivali Che mi sono usciti abbastanza bene In realtà abbiamo 3 affissi buoni Che è riduzione costo 4 gradi a nuova celida 3 gradi a teletrasporto E resistenza al veleno Che conta poco Potremmo togliere Resistenza al veleno Per aumentare La velocità di movimento Sarebbe meglio Se li trovassi Sarebbero sicuramente Sarebbero sicuramente I migliori Come infusione La probabilità di colpo fortunato Aumenta del 20% Quando abbiamo Una barriera attiva E abbiamo sempre Una barriera attiva Quindi abbiamo una probabilità di colpo fortunato Molto elevata Andiamo all'arma Anche qui l'arma Più è alto Il potere Dell'oggetto Più danni abbiamo L'infusione è Scheggi di ghiaccio Questo è Essenziale Scheggi di ghiaccio Trafiggono 4 volte I nemici E infliggono Il 22% Di danni in meno Per ogni colpo Successivo al primo Quindi il primo 22 E ogni 22 in meno Nei successivi Dovete assolutamente Mettere questa Che ha probabilità di colpo fortunato Del 15% E poi le 4 La verità sotto Non sono così Fisse Abbiamo danni A vita primaria Che è la più importante Poi abbiamo Danni ai nemici Vulnerabili E danni ai nemici vicini Prima vulnerabili E poi nemici vicini Che sono molto importanti E intelligenza In realtà Questa è uscita molto bene Sono probabilmente Le 4 migliori Da mettere Sull'arma Si può trovare Con potere offensivo Migliore Però è un'ottima arma Sul focus Ci sono più cose Intanto il focus Ha comunque sempre Tempo di recupero ridotto In questo caso Il 10,3% Più il potere all'oggetto È alto Più il tempo di recupero Aumenta Poi Va messo Tempo di recupero ridotto Ancora In questo caso 12,3 Generazione risorse Che è ottimo Probabilità di colpo critico E riduzione di costo umana Riduzione di costo umana Pure importante Probabilità di colpo critico Sarebbe Tra l'altro Mi è uscito molto male Sarebbe stato meglio Se fosse danno Da colpo critico Più che probabilità Da colpo critico L'oggetto Non è perfetto Ma è buono Poi inoltre Infliggiamo Il 23% Di danni aggiuntivi Ai nemici Quando abbiamo Una barriera attiva Quindi quando noi Abbiamo una barriera attiva Infliggiamo Il 23% Di danni aggiuntivi Ai nemici Poi Amuledo Molto importante Perché l'amuledo aumenta Del 50% Il valore Dell'infusione In questo caso Si mette La probabilità di colpo critico Dell'abilità primario Di dominio Che costano almeno 100 mana Aumentano del 60% Questo che significa Che non è Che un'abilità Deve costare 100 di mana Ma nel momento In cui noi Consumiamo 100 di mana E questo succede Sempre praticamente Abbiamo un 60% Di probabilità di colpo critico Aumentata Quindi noi Praticamente Facciamo colpi Critici Quasi sempre Abbiamo Le abilità Che ho qui Non sono Fortissime Perché è molto Difficile Da trovare Come oggetto Ho un tempo Di recupero Ridotto Ho 26 Senza tutti Gli elementi Che è anche buona Per quando Le resistenze Continuano poco 26 Senza tutti Gli elementi Tempo ridotto Del 14% Volontà aumentata Dell'8,2 Che purtroppo Ci si fa poco Ma questo Mi è capitato Danno aumentato Del 13% Ma soprattutto 3 A tutta L'abilità Di difesa Sarebbe il top Se al posto Di volontà Avesse avuto 3 A Avampati Divoranti Questo sarebbe stato Veramente il top Ma è molto Difficile da trovare Poi I due anelli Il primo anello Allora Gli anelli Qui pure O li buttate Tutti quanti Sul danno Oppure cercate Di mitigare Un po' Con riduzione D'anni O generazione Risorse Se vedete Che Scusate Non riduzione D'anni Riduzione Costi O generazione Risorse Se vedete Che non Riuscite A gestire Bene La cosa Quindi Io ho Probabilità Colpo Critico Un danno Da colpo Critico Molto Importante Danni A nemici Vicini Danni A nemici Sotto Effetto Di Raggelamento E' Un peccato Che danno Effetto Raggelamento È così Basso Però danni Critico Comunque C'è E' Un buon Anello Si può Trovare Anche Meglio Io ne ho Diversi Non è Così Fisso Ce ne sono Diversi Che possiamo Diciamo Mettere Come Come Affissi Però Comunque E' Un ottimo Anello In più La passiva Chiave Palanga Ora si applica Per un utilizzo Aggiuntivi Quindi Palanga Che vi dicevo Prima Che ha La probabilità Di Darci Gradis Il secondo Attacco Di Aumenta Il suo Danno Si può Applicare Per una Seconda Volta Poi Secondo Anello Danni ai Nemici Vulnerabili Danni ai Nemici Vicini Danni ai Nemici Sotto Effetti Di Fiamme Danni ai Nemici Sotto Effetti Di Congelamento Questo È Ancora Più Forte Dell'altro A livello Di Danni Infusione Qui Purtroppo Addirittura Do Metto Un Codex Perché Questa Infusione Non La Trovo Utilizzare Un'abilità Con Tempo Di Recupero Ricendere A 15 Semana Da Un 15 A 25 Questo È Molto Importante Se Vedete Che Avete Problemi Di Recupero Risorse Gli Oggetti Sono Questi Qui Andiamo A Vedere Un Attimino Le Caratteristiche Come Vengono Fuori Ho 9800 Di Vida Una Potenza Offensiva 5600 Armatura Di 6000 La Provata Schivata Non Conta Niente Le Resistenze Lo Sappiamo Purtroppo Non Contano Nulla Riduzione I Danni Qui Sarebbero Da Aumentare Magari Con Qualco Oggetto Oltre Il 9% Sarebbe Buono Portarlo Intorno Al 15 16 Per Cento Riduzione Contro Gli Elite Riduzione Danni Dai Vulnerabili Questo Non È Male 20% Riduzione Dai Nemici Vicini Riduzione I Danni Dai Nemici Lontani Riduzione Danni Dai Nemici In Fiamme Quindi Ho Diverse Riduzioni Sarebbe Meglio Riuscire A Portare Anni 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 Poi Abbiamo Una Generazione Di Stivali Ma Non È Così Facile E Poi Abbiamo Una Riduzione I Tempi Di Recupero Del 40% Questo È Molto Importante Perché Abbiamo Tutte Abilità Con Tempo Di Recupero Poi Bonus Abilità Colpo Fortunato 44% Se Ci Consideriamo Anche Questo Quassù Che Un 12 Arriviamo A Un 56% Abilità Colpo Fortunato Che Ottimo Eccolo Qua Che Poi Scritto Qui Sotto Andiamo A Vedere L'albero Dei Paragon L'albero Dei Paragon D'eccellenza È Un Po Complesso Però Cerchiamo Di Andare Abbastanza Veloci Allora Andiamo Velocemente Al primo Noto Adesso Non Vi Faccio Vere Punto Per Punto Poi Almeno Non Nel Primo Ramo Fino Ad Un Endgame Quindi Oltre Livello 80 Perché Se no Non Arrivate A Prendere Tutti I Vari Diciamo Castoni Glifi Allora Il primo Va Messo Elementalista E Intorno Diciamo Elementalista Ci dice Che I Noti D'eccellenza Portato Ottengono Un bonus Del 75% Ai danni Non Fisici E Ai Modificatori Di Riduzione Dei Danni In Più Se Arriviamo A 40 Di Intelligenza E Si Prendene Esattamente Fino Al 40 Di Intelligenza Infliggere Danni Da Fuoco Da Freddo Quindi Noi Facciamo Due Tipi Di Danni Quindi Sono Due Aumenta I Danni Che Infligge Del 5% Per 10 Secondi Quindi In Tutti Questi Nodi Magici Danni Non Fisici Guardate Danni Non Fisici Tutti Quanti Danni Non Fisici Che Ci Aumentano Che Vengono Aumentati Vengono Bustati Moltissimo Da Da Questo Da Questo Grifo Qui Ok Poi Nella Seconda Nella Seconda Pagina Eccola Andiamo Direttamente Guardate Prendiamo Questi Magici E Questo Raro Qui Mentre Proseguiamo Che Sono Comunque Dei Noti Che Ci Regalano Velocità D'attacco Danni Evocazione Ovviamente Non Ci Servono A Nulla Ma Velocità D'attacco Si Poi Proseguiamo In Alto Andiamo A Prendere Guardate Andiamo A Prendere Il Glifo Questo Quassù In Cui Va Messo Opportunismo Opportunismo Si Dice Che Per Ogni 5 Punti Destrezza Che Abbiamo A Portata In Questo Caso Sono 34 Che Sono Il Massimo Infliggiamo Il 3,1% Di Danne In Più Ai Nemici Vulnerabili Se Abbiamo Il Bonus Che 25 Infliggere Danni A Un Nemico Vulnerabile Aumenta I Tuoi Danni Nell'1% Per Secondi Fino Al Danne Ai Nemici Vulnerabili In Più In Più Ci Sono Dei Dei Nodi Qua Intorno Che In realtà Andiamo A Prendere Soprattutto Per L'intelligenza Per Portarla A 34 E Questi Qua Ci Aumentano I Danne A Nemici Vulnerabili La Pagina Questa Qui È L'ultima Da Prendere Quindi Se Questa È La Seconda Questa È La Terza Si Si Va A Prendere La Terza Pagina Andate Prima A Prendere Il Glifo E Poi Andiamo A Questi Bonus Qua Sotto I Bonus Sono Sempre Danni Ai Nemici Vulnerabili E Riduzione I Danni Ai Nemici Vulnerabili 5% 20% Addirittura Poi Il Glifo Questa Volta È Tattica Tattica Ci Dice Che Fornisce Un Bonus Del Se Il Bonus È Diciamo Soddisfatto In questo Caso 25 Di Strezze O 29 Inflichiamo Il 10% Di Danni Aggiuntivi Per 4 Secondi A Nemici Dopo Aver Utilizzato Un'abilità Di Difesa In Questo Caso Ci Aumenta Tutti I Noti Che Abbiamo Quattorno Quindi Tipo Vede Danni A Nemici Vulnerabili Più 45 Intelligenza 22 Questo È 10 Ovviamente Di Base Come Questo Costone Resistenza Al 54 22 All' Intelligenza Aumentano Di Brutto I Due Noti Che Abbiamo Qui A Portata Poi Si Va Avanti Si Prosegue Qui Si Va A Prendere Questi Noti Qui Che Riduzione A Nemici Vulnerabili E Questo Tutto Riduzione Danne A Nemici Vulnerabili E Poi Si Passa Alla Quarta Pagina Nella Quarta Pagina Andiamo A Prendere Sempre Primo Il Glifo E Qui In Questo Caso A Distruzione Ci Dice Che Per Ogni 5 Destrezza Acquisiti A Portata In Questo Caso Io 49 Tantissimo Infliggiamo Le Massimo Del 12 Per Cento Quindi In Sostanza Abbiamo 73 Per Cento Di Danne A Colpo Critico Aumentati In Più Quel Bonus Lì Fino Al Massimo Del 12 Per Cento Più Si Va A Prendere Questo Clifo Qui Raro Che I Nemici Sotto Effetto Da Fiamme Ottengono Fanno 10 Per 10 Per Giuntivi Purtroppo Qui Il Bonus È Difficile Raggiungere Perché 540 Di Volontà Probabilmente Non lo Raggiungerete Col Mago Se No Era Un Ultra 10 Per Cento I Gliffi Intorno Sono Tutti Quanti Danni Aggiuntivi Ai Nemici Sotto Effetto Di Fiamme Questi Qua Sopra Sono Danni Critici All' Abilità Primaria Riduzione Danni Dai Nemici Sotto Effetto Di Fiamme Sono Riduzione Dai Nemici Sotto Effetto Di Dai Nemici Elite Armatura E Armatura Anche Qui Non Ci sono Arrivato Non So Se Riuscirò A Arrivarci Probabilmente No A 735 Se Ci Riesco Avrò Un 6,5% Di Danni In Meno Dagli Elite Forse Ci Posso Riuscire Ho Ancora Due Livelli Da Fare Potrei Riuscirci Con Anche Qui Volontà Non Ci Si Riesce A Boost I Danni Ai Nemici Sotto Effetto Di Fiamme Aumentano Ancora E Elite Sono 16% Anziché 10% Sono Tutti Danni Aumentati Agli Elite O Nemici Sotto Effetto Di Fiamme Poi Si Va Sul Albero Successivo Che È Il Quinto Mi sono Dimenticato Quali Alberi Sono Poi Ve Li Dirò A Fine Diciamo Alla Fine Allora Qui Dovete Andare A Prendere Subito Il Glifo Io Ho Fatto Un'altra Strada Poi Però Voi Andate A Prendere Il Glifo In Questo Caso Si Mette Controllo Controllo Ci Dice Che Per Ogni 5 Punti Di Destrezza Acquistati A Portata Infliggi Il 14,9% Di Danni Aggiuntivi Ai Nemici Sotto Effetti Debilitanti Io Ho 39 Apportata Infliggi Il 10% Di Danni Aggiuntivi Ai Nemici Rallentati O Raggelati Oppure Il 20% Ai Nemici Congelati Quindi 115% Ai Danni Sotto Ai Nemici Sotto Effetti Debilitanti E 20% Ai Nemici Raggelati Purtroppo Ha Crashato Il Gioco Proviamo A Rientrare Un Attimo Non So Se Ci Riesco Oggettivamente Perché Solito Quando Cade Così È Difficile Rientrare Subito Questo Perché Non Mi Sono Mosso Mentre Ero In Play Purtroppo Il Gioco Ci Caccia Se Rimaniamo Fermi Per Troppo Tempo No È Rientrato Subito Dicevo Questi Nod Non Purtroppo Non Prendere La La Destrezza Che È Tutta Portata Poi In realtà Dovreste Andare A Prendere Questi Nodi Qua Che Ci Aumentano I Danni Agli Elite Anche Qui Non Riusciamo A Potenziarli Però Aumenta Il 16% I Danni Elite Velociciamo Il Movimento Di 4 Seconde Può Aver Ucciso Un Elite Danni Agli Elite Danni Movimento Di 4 Seconde Può Aver Ucciso Un Elite Questo Potreste Anche Non Prenderlo Sicuramente Questi Due Questo E Questo Sopra Quindi Andate A Prendere Questi Due Questo E Questo Sopra Una Volta Fatto Questo Andiamo Al Sesto Che È Questo Laterale Qui In Dovete Andare A Prendere Il Glifo Che Mangia Fiamme Mangia Fiamme Ci Parliamo Al Quorum Inflitiamo Il 10% Di Diretti Aggiuntivi Ai Nemici In Fiamme Quindi 77% Di Aggiuntivi Più 10% Qui Si Prende Questi Noti Qui In Usiamo Proprio Gli Ultimi Livelli In Cui Aumentano I Danni Critici Non Tanno I Danni A Fuego Che Ce Ne Importa Poco Ma I Danni I Danni Critici Si Vedete 7,5 Danni Critici Infatti So È L'ultimo Noto Che Si Va A Prendere I Le Pagine Sono Allora La Prima È Evocatore Elementale Purtroppo Le Noto Elementale La Seconda La Terza È Destino Glaciale Poi La Quarta È Dove Eccolo Qua Istinto Bruciante La Quinta È Conduzione Incessante E La Sesta È Ultima È Caldo Fiammeggiante Io Direi Che Ci Sono Vi Ho Detto Tutto Vi Dirò Quello Che Penso Io Del Mago Dopo Averlo Utilizzato Bene Secondo Me Il Mago Probabilmente Adesso È La Classe Più Sfavorita Per Un Semplice Discorso Di Danni Che Subisce Perché Le Resistenze Non Servono A Nulla Adesso La Pitta Sta Nervando Le Altre Classi Per Cercare Di Portare Il Mago Allo Stesso Livello Ha Dele Buone Cose È Un Personaggio Che Regala Tantissime Soddisfazioni Fino Al 40 Poi Farete Fatica Andare Molto Sopra Io Attualmente Ho Chiuso Massimo 62 Ho Fatto Un Video 57 Ma Ho Chiuso Un 62 Cercherò Di Farvi Vedere Spero Un 65 Ma Si Fa Fatica Ho Amici Che Hanno Già Chiuso Con Altri Tipo Col Druido 70 E Anche Abbastanza Facilmente Quindi Sicuramente Siamo Meno Forti Di Altre Classi Tipo Probablemente Barbaro Utilizzare Comunque A me piace Io adesso Utilizzo Questa Build Qui Non so Se è la Migliore Per il Mago Ma Comunque È Un'ottima Build Io Spero Che Il Video Vi Sia Vi Sia Vi 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 Spero Un 65 Chiuso Arrivederci